Dopo quasi 30 anni di vita, Tele Alto Boot, storica e emittente televisiva carnica, ha ricevuto l'ordine di cessare le trasmissioni, essendo stata esclusa dal riparto delle frequenze per il digitale terrestre. Andrea Romoli. Per 30 anni è stata la voce e gli occhi della Carnia. Dalle sue frequenze sono stati trasmessi tutti gli eventi che hanno segnato la vita quotidiana delle genti delle vallate. Oggi Tele Alto Boot ha ricevuto l'ordine di chiudere definitivamente i battenti, perché il piano di riordino nazionale delle frequenze l'ha esclusa dal riparto. Questa piccola televisione trasmette praticamente solo per la comunità della Carnia. Niente pubblicità, rari e modestissimi anche i contributi pubblici. Per il resto è bastato il volontariato e la passione del suo creatore, Titta Muser, che dal 1982 ha tenuto viva questa voce libera e familiare. Ormai non c'è più nient'altro in Carnia. Se pensi che Palluzzi avremmo 5.000, adesso siamo 2.500, adesso ci tocco anche la televisione e non avremmo più niente, è finito. Le funzioni religiose, i battesimi e le cresime, gli eventi culturali e sportivi, le feste popolari e la partenza dei coscritti per il servizio di leva. Persino i funerali. Ogni evento significativo svoltosi nell'Alta Carnia dall'82 a oggi è stato ripreso dalle telecamere di Tele Alto Boot. Siamo molto arrabbiati perché c'era anche la festa di San Nicolò per i bambini, chiudono anche con la roba lì. Si vede un po' di tutto, si vedono le cose passate, i personaggi del paese che ormai non ci sono più e fa piacere vederli, insomma, perché la chiudono? Cambia qualcosa per questa comunità? E perde la voce. In tutti la speranza di un ripensamento dell'ultima ora perché nella valle le frequenze di trasmissione sono quasi tutte libere e davvero non si capisce che disturbo possa dare un emittente che a stento arriva a trasmettere sino a Tolmezzo. Tele Alto Boot al 21 di Dott. Mandi mandi.